L'Aquila sarà un vero e proprio centro di formazione quando si concretizzeranno tre realizzazioni decise dal Governo che sono la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, quella di formazione per i volontari di protezione civile e quella per la formazione dei dirigenti di pubblica amministrazione. Così come la Scuola degli Allievi della Guardia di Finanza ha portato evidenti benefici in città, anche in termini di economia, così faranno lo stesso queste tre scuole. Ne assicuro il Sindaco per Luigi Biondi, alla luce del Sì del Consiglio Comunale della Delibera, che ha avuto come oggetto proprio l'istituzione del centro di formazione, con la cessione di aree fabbricate del progetto case di sassa nucleo industriale gratuitamente al demanio. L'opposizione non ha votato, non per contrarietà alla scuola, ma per la procedura per loro completamente sbagliata, che non ha coinvolto in Consiglio e che prevede prima la cessione, quando invece andava fatto prima, il cambio di destinazione d'uso. Tra i più battaglieri, oltre al comitato di Antonio Perrotti, anche il consigliere Lelio De Santis, una decisione che apre la strada a ricorsi a suo giudizio. Siamo arrivati ieri ad approvare la cessione delle aree e delle unità immobiliari senza aver fatto gli atti propedeuci essenziali. Quali sono gli atti propedeuci essenziali richiesti dalla legge dello Stato? Esattamente questo. Il cambio di destinazione d'uso, perché noi possiamo adesso mandare via 172 famiglie lì e poi accorgerci, in sede di modifica del PRG, che quell'area non è disponibile, o comunque non è idonea, come chiede il legislatore, all'uso, quindi alla realizzazione dell'area. Quindi ho chiesto da tempo, a dire la verità, soltanto una correttezza e una trasparenza al Ministro di fare le cose per bene, per evitare che ci possano stare degli intoppi e dei ricorsi che già vengono annunciati. Il compendio che si trasferisce è costituito da un'aggregazione di 18 edifici multipiano destinati principalmente alla civile abitazione, 8 palazzine sono attualmente inagibili e vuote, di un edificio elevato su un solo piano adibito a centro di aggregazione sociale e di 5 manufatti, sempre monopiano, adibiti a cabine elettriche. A corredo di tutti gli edifici è presente una pertinenza scoperta esclusiva costituita da aree adibiti a strade per levabilità interna, verde privato e aree per i parcheggi. È previsto un finanziamento di 15 milioni di euro per il triennio 21-23 e di un milione a decorrere dal 2024. L'intervento prevede non solo l'adeguimento delle palazzine agibili, ma anche l'abbattimento di quelle inagibili, sgomberate in seguito a un'indagine della magistratura che aveva fatto emergere deficit strutturali in molti edifici del piano case. Ad essere demolite però saranno solo le palazzine, non le piastre. La scuola regime potrà ospitare circa 750 allievi.